In particolare i problemi che si sono venuti a creare in questa città diverse volte nei semafori. Purtroppo più di una volta abbiamo pulito, sgomberato quell'area non con senso di razzismo che magari qualcuno ma perché a lungo andare anche dal punto di vista igienico sanitario potrebbe esserci qualche problema. Ancora una volta prendiamo atto di quello che il consigliere Fazio ci ha poco fa comunicato e andremo nuovamente a ripulire e sgomberare quell'area da materassi o divani presenti nell'area in questione. Questo è quello che in questo momento possiamo fare perché alcune volte se andate ai semafori insieme alla polizia, insieme ai vigili urbani, abbiamo fatto anche diverse riunioni con il consigliere Ferlito, abbiamo cercato di sollecitare le forze dell'ordine, però è un problema che ahimè ancora rimane. Sembrerà una cosa stupida ma per evitare il problema occorrerebbe sostituire ai semafori le rodatori.